questo servizio è offerto da dread multimedia acqua ganten centro commerciale il porto studio legale balsamo vi auguro un buon pomeriggio amici sportivi siete collegati con lo stadio Renzo Barbera di Palermo qui il 20 ottobre 2019 va in scena l'ottava giornata del campionato nazionale di serie di girone I scendono in campo Palermo e Licata in maglia bianca con strisce verticali centrali giallo blu il Palermo maglia nera con dettagli rosa trovata Corigliano il cross di assenso a centro aria è buono il pallone la prende di testa Porcaro a Vaccaro Vaccaro subito nel corridoio buono il vero a trovare Ricciardo il tiro deviato sopra la traversa di poco ci ha pensato Porcaro 46 di altezza libera ma proprio sui piedi di Martin che la rimette in mezzo attenzione tutto solo l'alcini ma para in grazia non ha dato forza è stato lasciato completamente solo la palla resta al limite attenzione il Palermo adesso Vaccaro prova a rimetterla Diabì la cicca attenzione Santana sbaglia incrocia troppo col destro ma che errore di Diabì parte assenzio il cross sul secondo palo libera con affanno la divisa di Palermo Diabì la palla che passa fuori gioco fuori gioco fiscato tutto fermo palla per Diabì Diabì colpetto la stoppa palla a Cassero il cross di prima intenzione sul secondo palo attenzione all'errore e assenzio a due metri dalla porta sbaglia con Pelagotti che salva il risultato altro cross di Adeyemo sempre tagliato smetta Moltese! 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 Inlicata in fattaggio! Inlicata in fattaggio! Inlicata in fattaggio! ha segnato Totò Moltese! Minuto 22 e 30 secondi! La sblocca lui! Il capitano! Il numero 5! Totò Moltese! E' tutto inlicata sotto lo spicchio giallo blu! Ovviamente immaginate quello che sta succedendo con i mille licatesi che hanno ammutolito la favorita! Calcio di Pulizzo! Calcio d'angolo! Il secondo è sul secondo! Maltese non ha sbagliato! Porca solo per Mattia il pallone! Adesso Martin! Martin l'imbucato! Attenzione alla triangolazione! Felici! Felici! Il tiro e il gol! Ha segnato il Palermo! Ha segnato Mattia Felici! Una bella azione manovrata del Palermo! Nulla potuto in grassia! E al minuto 28 il Palermo è pervenuto al pareggio! Il Licata però si è fatto un po' troppo facilmente a girare! Trova Lancini sulla sua orizzontale! Lancini rilancia in avanti per Santana che è in posizione regolare! Santana! E c'è il 2-1! Ha segnato il Palermo! Difesa dell'Elicata presa! Di infilata ha segnato Mario Santana! E in due minuti il Palermo ha ribaltato il risultato! Per Martin! Allarga sulla destra! Per Doda! Con un po' di spazio! Doda! Punta in area! Attenzione! Doda entra in area! Mattia Felici! Il tiro! Alto! Convitto! Che gode di molto spazio! Convitto! Punta ancora Doda! Convitto! Il tiro! Roberto Convitto! Fuori di un metro! Palla che fa la barba al palo! Contro la difesa dell'Elicata parte Martin! Il cross tagliato a bozza l'uscita! In grassia sulla linea! Salva assenzio sul colpo di testa! Risalita di Doda! Sulla fascia il cross in mezzo! Induffo va Maltese! In vantaggio su Cass e su Ricciardo! Campo il cross! Di prima intenzione! Ricciardo! Debole! Sulla traversa! Ma c'era comunque in grassia! A protezione della sfera! Pensava che la stoppa! Supera Crivello! Attenzione! Il Elicata va in avanti! 4 contro 2! Convitto! Il cross! La prende attenzione! Daniello! Sbaglia completamente! Sbaglia completamente Daniello! Tutto l'errore dell'Elicata! Ambro per saltare il tiro! Quei pugni in grassia! Palla a Ricciardo! Ricciardo a destra! Poi Maltese! Laro prova il lancio lungo verso Sforzini! Attenzione! Porcaro la tocca soltanto! Sforzini! E in aria! Pallone in mezzo! Ci arriva Felici! Felici! Il tiro! Murato! Murato! Da Cassano! Felici punta e ne ha il cross! Alto sul secondo palo! Ricciardo la incrocia! In grassia! Salva! Mandando in corner! Indeferie con la barriera! Parte! Convitto! Palla deviata! In corner! E riceve! Cassano punta a Vaccaro! Prova a convergere verso il centro! Pallone! Verso Gallone! Il velo! Convitto! Se l'allunga troppo! Che arriva verso Gallone! Gallone con il sombrero! Supera un avversario! Supera un avversario! Attenzione! Attenzione! Un 2 contro 1! E vediamo! Per confitto! 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 Cosa è sbagliato? Confitto! Cosa è sbagliato? Confitto! Fischietto in bocca! Triplice fischio a Renzo Barbera! Il Palermo batte un buon Licata per 2-1! Grazie alle reti in rimonta di Felici e Santana l'aveva portata in vantaggio per il Licata Maltese! Ma è un Licata che esce già tra gli applausi perché il pubblico Licatese sta applaudendo già al triplice fischio i propri beniamini che non hanno assolutamente sfigurato!